Siamo qui per parlare di cultura e di una bellissima iniziativa a livello culturale letterario che coinvolge due associazioni conosciute nel territorio carabesano. Stiamo parlando dell'associazione culturale Aladei di Aglie e di Ghevasun di Olzegna. Due realtà del territorio che hanno collaborato e continuano a collaborare nel segno della parola ritrovata, ovvero il concorso letterario a livello nazionale che è stato lanciato di recente e che è alla sua seconda edizione e che sta richiamando l'interesse di tantissimi appassionati di letteratura sia a livello bievantese ma anche nazionale. Siamo qui con Maurizio Lazzero che è il coordinatore dell'associazione Aladei e quindi siamo un po' anche uno delle anime di questa iniziativa. Maurizio con te vorremmo un attimino che ci raccontassi, ci spiegassi cos'è il concorso ma anche delle iniziative che sono direttamente collegate all'iniziativa La parola ritrovata. Allora il concorso La parola ritrovata nasce dalla necessità e dalla volontà delle due associazioni di creare un evento che si legasse ai 400 anni della manifestazione che verrà fatta per il santuario di Ozzegna. In ricordo di quel miracolo che è successo nel 1623 in cui un muto vedendo la Madonna ha ritrovato la parola e da qui la parola ritrovata come titolo della nostra manifestazione. Il concorso letterario è stato lanciato a ottobre, è stato lanciato a ottobre su dei siti appositi che noi conosciamo e che abbiamo già utilizzato per i concorsi degli anni precedenti e attualmente alla chiusura del bando di concorso ci sono più di 200 elaborati. È un numero enorme perché è veramente la risposta non ce l'aspettavamo così grande, devo essere sincero, ed è stata una risposta nazionale in tutti gli aspetti perché tutte le regioni immancabilmente hanno risposto. Dalla Sicilia, qualunque, abbiamo ricevuto una quantità di... Elaborati da tutto il paese. E quindi adesso ci sarà una commissione che viene condotta e diretta dal professor Girardino che è un linguista con altre quattro persone, tra cui un giornalista e un editore, eccetera, e che faranno una classifica di questi elaborati. I primi 15 elaborati di questa categoria verranno inseriti in un libro che verrà donato e che verrà poi pubblicato con i migliori, diciamo, elaborati secondo noi, secondo la giuria. Certo, quello della giuria. Diciamo che abbiamo cercato di dare più spazio possibile a tutto, quindi non abbiamo solo fatto la, come si può dire, il relegato al racconto, ma abbiamo lasciato che ci fossero poesie o piccoli interventi, piccoli racconti. Quindi tutte le forme possibili di espressione. Esatto, e quindi ovviamente questo ci ha permesso di dare spazio a moltissime tempo. Oltre al concorso, dicevamo, la parola ritrovata ha anche una connotazione particolare, ovvero quella di una serie di conferenze che già in parte ci sono state e in parte ci saranno. Vuoi raccontarci e spiegarci quelli che già sono stati gli appuntamenti che hanno, diciamo così, animato questa prima parte? Allora, ci sono stati tre interventi che sono stati molto importanti. Dunque, perché le nuove conferenze? Le nuove conferenze andavano ad analizzare tutti gli aspetti della parola. Quindi abbiamo cominciato col professor Girardino, essendo un linguista, ha analizzato tutte le parole, come venivano create, come nasce una parola, eccetera. Poi siamo passati al professor Mazzarello, che è uno scrittore. Oltre a essere il rettore dell'Università di Pavia, di Medicina, è anche un ottimo scrittore. Infatti è stato candidato, proprio in questi giorni, con il libro che è venuto a presentare da noi, al premio Strega, quindi un riconoscimento notevole. Il professor Mazzarello ci ha raccontato la sua versione, la sua visione della parola nella scrivere. Quindi è venuta Anna Vivarelli, che si occupa esclusivamente di giovani. Quindi scrive per i bambini, scrive per le scuole, e ci ha fatto una serie di racconti molto interessanti su quello che è il rapporto che hanno i ragazzi attualmente con la parola. E ci hanno confermato, purtroppo, quello che il professor Girardino ci aveva dato all'inizio. E cioè che mentre le popolazioni inuit hanno un vocabolario di 40.000 parole, i giovani attualmente non usano più di 3.000-4.000 parole. Il che è preoccupante perché, ovviamente, il problema soprattutto dei messaggi, delle cose molto brevi da scrivere, hanno rovinato molto la capacità dei ragazzi di potersi esprimere. Invece, quali saranno i prossimi appuntamenti? Tra l'altro, proprio, ne abbiamo uno imminente. Sì, venerdì 10, Enzo Morozzo presenterà un libro storico, un racconto storico, diciamo, intitolato Anno Domini 1623, dove racconta proprio la storia, ricostruisce, cerca di ricostruire, la storia di questo evento preciso, di questo miracolo, e la racconta aggiungendo tutti i particolari storici che ci sono dell'epoca. Poi verrà il professor Cozzo. Il professor Cozzo, invece, è un docente universitario di Torino che si occupa esclusivamente di quello che sono gli eventi della Chiesa e quindi tutto quello che è legato alla Chiesa e quindi come mai costruiscono i santuari, quali sono le basi storiche dell'evoluzione del pensiero della Chiesa. In particolare, lui si occupa dei miracoli e ci racconterà tutta una serie di miracoli, in realtà avvenuti proprio nella nostra zona e che sono stati registrati dalla Chiesa. Interessantissimo. Quindi il professor Grimaldi parlerà invece degli ex voto in Italia e in particolare in quelli che sono presenti nel santuario di Ozzegna, sulla quale lui ha fatto uno studio particolare. Quindi ci sarà il... E qui abbiamo un'altra forma di espressione. Certo. La forma successiva è quella legata alla musica. Quindi non potevamo mancare la musica. E quindi ci sarà la corale di Allieh che canterà mai il suo maestro, che è un ottimo scrittore di musica e soprattutto di testi. Ci racconterà come nasce un testo per la musica. Poi passeremo ad una cosa molto più attuale, e cioè, questo il 21 di aprile, Daniela Dupoli, che è stata, ed è, tu conoscerai bene, tra voi professionisti vi conoscete, e Antonio Sgoba di Rai3, verranno a raccontarci invece che cos'è la parola nella comunicazione, che valore ha e come viene utilizzato. L'ultimo, il 5 di maggio, secondo me, è l'appuntamento più importante. Non perché gli altri non lo siano, ma perché dà una chiusura. Ci saranno il professor Piazza e il professor Giacobini. Il professor Giacobini è stato il professor... Adesso è un professore emerito, ma è stato il mio professore d'anatomia. quando faceva medicina, e lui è anche un antropologo, e ci verrà a parlare, ci farà un racconto su quello che sono la comunicazione prima della parola proprio. Quindi tutto quello che loro hanno trovato sulle pareti delle caverne, su quello che hanno visto e che si può trasmettere. Mentre il professor Piazza ci verrà a raccontare una cosa che è un genetista, ci verrà a raccontare una cosa favolosa, e cioè ci dirà che in realtà la parola, la nostra parola, viaggia con noi. E quindi quando noi ci spostiamo e geneticamente ci accoppiamo con qualcun altro, anche in un altro paese, il bagaglio della cultura genetica della parola viene con noi. Ed è una cosa che lui ha studiato già da tantissimi anni, e che sarà interessantissima da ascoltare. Beh, effettivamente un viaggio nella parola a 360 gradi, perché tutte le parti, tutti i mondi dove la parola viene utilizzata saranno al centro di attenzione di questa serie di conferenze che già, ripetiamo, sono iniziate e che proseguiranno ancora fino a maggio. Maurizio, grazie di esserci venuti a trovare, grazie di averci anche raccontato di questa interessante iniziativa. Tra l'altro, per quanto riguarda il concorso letterario, premiazione, quando si terrà e dove si terrà? Sì, allora, dove si terrà non lo sappiamo ancora. Ovviamente a Ozzegna non sappiamo se vicino al santuario oppure nel palazzetto, ma in uno dei due luoghi il 27 di maggio faremo la premiazione ufficiale e faremo avvenire tutti coloro che hanno vinto il concorso, i primi 15 di ogni categoria. Quindi aspettiamoci appunto autori o appassionati da tutta Italia a dimostrazione che il canavese è non solo un pezzo di Piemonte, un pezzo della provincia di Settodino, ma un pezzo di Italia importante e questo lo dimostrerà ancora. Grazie. Grazie Maurizio. Quindi appuntamento, oltre che alla conferenza, il 27 di maggio per la chiusura del concorso. Grazie a tutti.